Piazza, spedio, facciamo un'autonoma, facciamo un scherzo nel Gibboard 3D, ora facciamo un'autonoma. play a questo c e intai perciamano cosa faremo cosa faremo survivor level intai e faccio due fasi level e avuto levele but avuto voglio farlo da l'arca questa livella ok 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 e e e e e e e nah consiglio che pepe 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 oh vici 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 i miei Gia re, gia re, ti vleppis me ci, bacabuli, grazie male, grazie Gia pelle, gia re pelle Ti c'amni tu tò so pelos Gia re, se te ti ci, bacabuli, grazie La, 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 la Vai 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 vä Da mè Uha 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 Ui Risitos Vatuta ti prama in tutto re, non puo per lo prama pedia, non puo per lo prama in me re, non puo per lo prama in me ma tutto sempre lo gesto cos'è na cosmo sto o, tre sto cos'è na cosmo sto pre ve lo sto sto avviiè cìè cìièè cììììì me cri di cì di cri di yes Ah! Chiul Entaxi è ola ga la cù la mèmm no E ora dovrei andare a trovare qualcosa Poi, ora dovrei andare a trovare qualcosa Non so se che dovrei andare a trovare E' qui, è un altro porto E' qui, per farò? Per farò? Per farò? Per farò? Per farò? E' qui? Per farò? Tora Ok, we'll shut it Super la 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 L 됩니다 Dame advanced dicci e preppora conconfidit date date Eccolo! 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 Ma che devo fare? Eccolo che mi volevo che mi volevo a me vincere lo spide book non lo so che mi ha detto Anche le panno dopo . Ma darmi ti prom' ha detto in visible doruti Ci si conversi Oni è Erm Este disc Po ora, vorrei arcederci a me, vrei, non mu pello prima vrei, se pello, vrei vrei, vrei, vrei vrei, 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 vrei vrei, 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 vrei vrei, 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 v 15 15 16 18 20 22 24 23 A presto ho! L'assigura che fai il suo ovo! di buco l'olere in dacci d'ora d'ora na pò na chaccar o l'oporta o les o les ei eu e eu 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 ei e eu 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 m E' un po' di nuovo? Perché ora è un po' di più! Non lo so, perché è sempre un po' di più! Oiii! Non ho chiudere! N'è un po' di più! Oooo! Se per favore! Oh mamma! Non ho chiudere! Non è un po' di più! Non è un po' di più! È un po' di più! Ho canowa solo! Occ brackets su sulla quella... Sono qua magari ho chiudere! E' un po' di più! Quanti sweepingiii! Ha! Ho! 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 congregate! la 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 la... nan 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 anche per le lascia! Hä? Wiiiiiii! brinca! lolololololololala no 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 Sì, ho scusato! Poi, ho scusato! Sì, ho scusato! Sì, ho scusato! E ora che ho scusato, posso non farlo! Ora ho scusato che devo fare! Ora ho scusato! Ora ho scusato! Oh, scusato! 10 minuti! Ah! No, no, no! Later, please! Ah, ah ah! Sì! Oh, hi! I am Creeper! Suna, time no! Oh, you're a... Tik, tok, tik, tok! Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! What is that? Ah! Oh, and dammi! Yeah, sure! Yeah, sure! Yeah, sure! Hey, da, da, da! Magari già! Hey! Dembo una, te dvo! Ma, mino, dammi, torre! Yati dembo una, te dvo! Ma, mino, dammi, torre! Huy, re, fufu! Oh, e, din legislature! Feltammi! E.Turada! Oh, y, re! Uffu! Tura! Na, mino, dammi, uffu! E.V.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.S. Bye, bye! Gia sigura... Ok, ok! Ent'axi, pèdia! Te gia sigura, tura preppo na nikiso! Ent'axi! Gia sigura, tura preppo na nikiso! Rè! Che problema è danno? Rè! E' il ne pèdàcchi tutti! Rè! Rè! Ma è gine pèdàcchi, e' kiazza tò spell book che è gine pèdàcchi! Poi ginnete? Gia do? Find TSP! Rè! Ent'axi, pèdia! A ma sas arècete tò video, mu vallte mu like, a ma nè sas arècete tò video, mu vallte mu dislike! Ehi! Ehi! Ehi!